Amici, benvenuti, ciao. Questa sera assaggiamo insieme a voi il ronchedone dell'azienda Cadei Frati, qui siamo proprio a Sermione, sul lago di Garda, Vista Lago, quindi anche un posto bellissimo, quindi Lombardia, Marzemino, Cabernet e San Giovese. 14 gradi e mezzo, un vino favoloso, Cristian ci dirà perché. Beh, ciao amici di Vino, direi che passando alla degustazione, esami di visivo, questo meraviglioso vino è di un rosso rubino intenso, come direbbe qualcuno, carnigna, consistente, meraviglioso. Passiamo all'intensità, al naso di questo vino, è molto molto intenso, è abbastanza complesso, si sente subito la frutta matura, si sente la prugna, questa leggera fumicatura che gli dà il leggero passaggio in legno, anche una nota, è erbacea, alla fine, alla fine il Cabernet marca molto e si sente alla fine, guarda gli alzetti, pazzesco, pazzesco, stupendo, bellissima struttura, si vedono tutti, si, andiamo a sentirlo. Secco, caldo, morbido, direi che si sente anche leggermente il tannino, ma comunque è un vino equilibrato, intenso e persistente, fine, direi davvero, se vogliamo parlare di qualcosa di quello che c'è dentro, muore, direi che si sente l'Arkens, o il rosoglio come direbbe mia nonna. Bello, poi sai che cosa che ha? Questa nota di cacao, cosa di cioccolato fondente che ti lascia una bocca bellissima, hai voglia di verne ancora di questo vino qui? Oh, direi un fondente 70%, un vino veramente di corpo. 14-16 gradi, qui con la carne non abbiamo problemi, questa struttura qui... 14-16 gradi, 16 gradi, temperatura di servizio. Si, 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 lo servizio. Carne, cosa diresti? Un po' del cervo, del cinghiale qui, più la carne è saporita. Anche un bel carrello di bolliti. Perfetto, si, assolutamente si. Si. Oppure del brosato, quindi con la carne a tutto spiano. Pagoloso il pegone. Vi divertirete un sacco. Sicuramente. Amici, vedi in vino. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.